Salve a tutti ragazzi e bentornati di MyShowsha, siamo tornati a spendere i soldi! Nuova promo, Rush Totale, Mbappé! Ma soprattutto Cristiano Ronaldo, mi fa stanissimo vedere che non è più lui il giocatore più forte della promo Sono tutti fortissimi e proprio per questo non li troveremo! Ho già dato perché mi sono aperto un pacchetto a buffo e ho trovato la mia prima Icon Pure alta dove roll, cioè doveva essere Mbappé Se lasci mi piace adesso a questo video, la tua squadra vincerà! Altrimenti perde e non troverai niente su UFC, ma voi non dovete shoppare Se so abbastanza matto, anzi glielo dico qua Yay! Se mi fai trovare i giocatori forti, mi gioco pure la Weekend League Allora ragazzi, c'è un po' di roba qua che mi sono trattenuto dalle rivals Perché comunque a me il gioco sta piacendo Non ho capito che sta Rush Totale, Rush è una modalità che mi piace Quando becchi gente con le mani e che passa la palla, eh In generale mi sto fomentando con le evoluzioni Ma che caccia c'è ragazzi, ho una squadra di evoluzioni ridicola Allora, ci abbiamo pacchetti promo come se non ci fossero un domani Io partirei da questi Scambiabili 83 garantiti 50.000 crediti se ne vanno Così! Del primo! Non è walkout Vabbè però ragazzi, è scambiabile 1000 FIFA Points per bonus Che non è così bonus se ci pensi Come cosa, no? Eeeh! Pensa spendere 50k E trovare bonus Vada solo che questa è una cosa che non bisogna fare Non ha veramente senso Mari se becchi la sculata Eh ma non ha becchi la sculata Anche perché poi se scarti ti rientrano Ecco, 6k se sei fortunato È tosta qua ragazzi Secondo me non c'è niente Quando tocca a me stanno sempre aggiornati Vai, secondo pacchetto Va bene Ad italiano Dello scarzuolo Dello scarzuolo Mamma mia ragazzi Solo io Solo io 83 Berardi 50.000 crediti Quindi io ho appena speso 50.000 crediti Non lo dimo alta voce 50.000 crediti E il giocatore più alto è Berardi Che si vende attualmente a 850 No ma perché mai che Ma che cazzo è la rola ragazzi Cioè sta roba è veramente Gli è vergognoso Gli è scandalocio Cambiamo pacchi Abbiamo capito che non sono questi Quelli che dobbiamo aprire noi Pacchetto Basi Rush Totale Il V1 85 garantito Eh Walkout No non è garantito il walkout Eh L'ho chiamato L'ho chiamato Vai dammi Sì No chi è Ok questo è un walkout C'ha pure bei capi Portiere svizzero Qual è il problema Qual è il problema FC Il portiere No Dai due portieri Nello stesso pacchetto No Ma allora Sinupez E me Ma poi non mi era già uscito Un pacchetto Sommer e Martinez insieme Va un altro portiere Va no Però Marco Siorente Che zitto zitto Me lo sono ritrovato contro Ragazzi è una bestia rara Dai dammi Mbappé Oh Paro paro Allora Svava Terebel A belleira Oh però non sembra Hermione Granger Questa qui Mi dà un sacco di vibes Da Hermione Granger Ma io prendo Uranovic Voglio lo mettere su TikTok Che sembra che io non voglio prendere le donne Ragazzi ma io vivo con solo le donne Ah no non è vero Ma c'ho un figlio maschio Però vabbè Io voglio Chiglian e Mbappé E chi prenderò adesso Eppure spagnolo Lo prendo lo stesso Ma ne frega Un po' Stai Ho già capito Che qua Non si pesca Mi hai dato due Messi Back to back Allora Nel pacchetto per te Mi apro quello da 10 crediti C'è deve sta Un Cristiano Ronaldo Perché non è che mi dai due Messi E poi mi dai Un solo Cristiano Ronaldo Questo è Romero Vero Ah no Martinez Ebbè dai 74 Buttalo via Considerando come ci sta di male Questo ragazzi Perché io ormai Sculo solo quando non registro Sai che il pacchetto Perseveranza Non è bruttissimo Dammelo Walk out ATT Francese Non può essere Non poteva essere ragazzi Eh se no era promo Karim the Dream E non c'è più ruolo attivo Quindi insomma Non ti puoi sbagliare 86 Dove essere 86 86 Non so perché C'avevo in mente Che Benzema era 89 Ma sta di male Però eh ragazzi Icona base in prestito Oh Sien Non puzza Sien Apriamoci questi Da 500 Pacchetto promo No Devi essere un walk out Un cdc spagnolo Della liga Potrebbe essere letteralmente Chiunque Ma è Oh Ok Ah Koke Madonna Ah mi sono morso pure la lingua C'eravamo dimenticati Che Koke gioca ancora a calcio È vero Un rush in prestito Già posseduti Bappe Maiorda Marta Mi sono trovato costretto Ragazzi Chiedo scuso Eh tutti questi Ma che ce faccio Ormai 83 Non valgono nulla ragazzi Io me li porto su Ma Premiami ti prego Signori della IE Premiatemi Ok AS Brasile Neymar Possibile Eh sì Neymar Sito Eh infatti Ormai sei arrivato Neymar Ragazzi io sto a fare il tour Di quello che era E che non è più Neymar ancora si difende Però Messi Cristiano Ronaldo Ma pure Neymar Sì sono tutti finiti Neymar sito Non scambiabile Però Mamma mia A ottobre Neymar A 60 È brutta Ragazzi Oh Cristiano Come da sempre I stessi Il vento Sta cambiando E perché Proprio Uno buono Ok Portiere Ah no C'è c'è Portoghese Bruno No Vabbè Bruno uguale Sì vabbè Stavo a pensare Quello di Manchester City Invece abbiamo trovato Bruno Fernandes Che però Oh Stato è buono Con sto pallone Chi è Come si chiama Quell'altro Bernardo si chiama Ma che è Bruno Pure chi ho Crash Però sono tutti Doppioni Uno buono Che non c'ho Uno buono Che non c'ho Calma d'Oscar Ragazzi Stiamo a trovare Tutti in prestito Sto a fare una promo De prestiti Dai il vento Sta cambiando Dai Dammelo uno Vero Ok Questo è alto Portiere Mannaggia La No Mi è scita Vero porco Zio Portiere Spagnolo Chi è Unai Chi è questo Ma che Lo stai Lo fai Walk out Unai Simone Ragazzi Mi sta droppando Tutti i portieri In modalità rush Manco li puoi mettere I portieri Ma la vita Mi è proprio nemica Dammi un bappé Sempre gli stessi Ragazzi Sei Sono quelli Stanno a girare Stanno a girare Sono sempre gli stessi Mannaggia Cristina d'Avena Ragazzi Ci apriamo I miei pacchetti Diciamo I sudati pacchetti Delle rivals Vediamo un po' Che esce Bene Walk out Donna Non mi interessa Skip Spagna Chi è 88 Non ci sputo sopra No Mabile on Guarda che bedas Col tatuaggio sul collo Guarda che beddy 90 di difesa Mabile on Voglio capir perché Mabile on Vale qualcosa Va bene Va bene Chi è sta sarra Corre come un cagnaccio Rognoso pure Madonna raga Jenny katamo Tanto vieni Dal monzambico Un'ombreta Un guanto La maglia della spagna Bella Ok La maglia dei gotham city Scorpione Che è sta roba Ma lei è sta zozzeria 15 75 Più Dopo Il walk out Oh DC Brasile Ah Magallanesh Gabriel Magallanesh Vabbè Quindi che è 86 Non so riconoscere Quando è doppio walk out Quindi C'è spero sempre Non me lo dite Non me lo dite Vabbè Magallanesh Sta qua Giusto per far presenza Oh Doppio Ah pure scambiabile Capirai in costa Pagano niente 10.000 Quanto è Kovaecevic Che si fa il segno Della croce Mc clean Ragazzi ma perché Kuhminer Se vale così tanto Vabbè bel pacchetto Dai 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 Rimaniamo ragazzi Rimaniamo che mi sembra Che il vento Sta girando 2 83 più È donna Eh vabbè È un cc Portoghese Della Liga Ah no è Vitigna Me l'hai data adesso Che ti devo dire 85 Non è walk out Però will take it I will take it Vitigna Ho detto donna Perché c'ha capelli lunghi Ormai io ragazzi Sto in un loop Di ignoranza totale Dai che mi faccio La weekend No donna No No AS Magnola Non mi interessa Niente Tanto è della Real Madrid Questa Ah no è Claudia Pina Non disperate Perché una caduta Ci può stare Eh ragazzi Quando ci si cade Ci si rialza E si torna più forti De prima Come diceva il saggio Allora me ne vado qua Me apro Quote sto pacchetto Me lo puoi dare Forte Oh ok DC Italiano Bastoni Ah vabbè 87 bastoni Vai pesca Bravo bastoni Con l'amo Ah io l'ho provato Non lo so Non mi è piaciuto L'anno scorso Bastoni era un cane rognoso Speriamo che sia scambiabile Te prego Vai in prestito Cristiano No Vabbè No vabbè Ma non li chiedo nemmeno Anche ragazzi Non li chiedo nemmeno Tanto ho capito Che questi messi Ci hanno sempre gli stessi Però è questo il motivo Per cui non li trovate Rush totale Vai al negozio Non ce l'hai messi Non ce l'hai messi Mannaggia la pupazza Non ce l'hai messi 25 giocatori 75 Più Dai Dai Manco il volk out Manco il volk out Capirai Allora ci sono rimasti Il pacchetto Da mille Da mille Quello da 25 E basta ragazzi Ok walk out God Mignon Meno male Va Meno male Oh mi ha droppato solo portieri Solo portieri Mi ha droppato Incredibile Ho capito Basta Ho capito Mi sta dai portieri Basta Ho capito Basta Cioè se il metro Passi così Gli attaccanti Ragazzi sarei tipo Lo sceico Va Dormiva Da questi ragazzi Non mi è uscito Un po' Stag Di walk out Ok è andata malissimo Francese Chi c'è Capirai Cioè capito 83 Il pacchetto da mille È bruttissima ragazzi Vai ultimo ragazzi Per rovinarci la giornata È donna Schifo Ma come si fa Ragazzi Ma come si fa Dennis Rodman Come costa così tanto Dennis Rodman Vabbè perché forse Si linka con qualcuno Beh ragazzi Il cuore direbbe Fermati Però la testa Dice no Dobbiamo portare a casa Il contenuto Dammi un rush Per favore Pacchetto da 225 Mila crediti Ci sono 5 attaccanti 5 centrocampisti E 5 difensori 2500 fia points Yesports Se mi devi premiare Premiami adesso Vai Che cos'è IF ATT Tedesco Oddio 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 No L'ho trovata Questa volta Paggior Mola pop L'ho trovata E non mi ha fatto Manco Ma fammi il tunnel Fico no Io Ve lo giuro ragazzi Se mai Dovessi incontrare Il tizio Che si è messo là Ha detto Ma perché non mettiamo Le donne Cioè è giusto Ragazzi Io sono cresciuto Solo le donne Famiglia mia Sono solo le donne Ragazzi Ma sto dalla parte vostra Ma su eSports No dai Che cosa stai E la pop Guarda che pacchetto Di me Terre a Belleira Qua 10k Vale Non sa comprare Manco lei Manco lei Se tu vai da Terre a Belleira Da Hermione Granger Qua Non si compra Manco da sola L'unica cosa È che Ecco Ha un po' Tutto Box to box E vabbè Sì Beh che dire Ragazzi Non è andata Molto bene Devo dire Qualc'altro La sfiga è stata Che me l'ha dato Ma non mi ha dato Il tunnel Mannaggia la pupazza Allora ragazzi Ci salutiamo Con pacchetto 24 Giocatori 84 più Questo è frutto Del mio gioco Premiami No Sì Walk out TD Vabbè Basta ragazzi Ormai sto Io sto in Germania Dedesco Bayer Monaco Chi c'è Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ragazzi Oggi ho trovato Solo dinosauri Che bel pacchetto Guarda qua Brian cristante Però Vi posso salutare Con un pacchetto speciale Ho trovato La mia prima icon E ve lo mostro Adesso Allora ragazzi Prima che sparisca Nascondino Volante È però pacchetto Hero Però dentro Ci sta più roba Me lo apro così Vai Vai Poi scappo E ritorniamo Oh Che cacchio è Ah if Mazza If è più forte De Icon Il portiere Dedesco 92 Ma che messa I miei pedri Il portiere Angerer Che poi questa È più forte De buffonna Cioè secondo me Non ha assolutamente Senso Proprio ragazzi Non c'è speranza Per me Cioè io sono proprio L'uomo più sfortunato Di questa terra Non è possibile Cioè sono contento Ma allo stesso tempo No Tra un'ora inizia L'altra promo Quindi poi Aggiungerò sta cosa La storia Ci sta così a buffo Angerer Più Hero Vedete Vabbè sti cavoli Però il fatto che ci sia pedri 86 Non me la promette bene Il fatto è che è una portiera Più valore dei buffon Cuzza tantissimo 92 Ci sta Ci sta Allora vediamo sotto Comunque figa l'animazione Dell'Icon Vorrei guardarlo tipo come Come a poker Porca Che schifo Vedi vedi Cioè Mai una gioia Mai una costata di gioia Perché costa così tanto Howard Ah perché è Premier League Cioè quindi ragazzi Io ho aperto due Anzi tre Tre hero Fino adesso Tre hero della Premier League De cui tu portieri Vabbè ragazzi Angerer Quanto è altro A me è 75 Zio becco Zio becco Quanto costa Costa più team Howard Trovarlo e non trovarlo Il maestro ci insegna Che è bello trovarlo Che è becco Grazie a tutti.